La notizia si aspettava sicuramente da un po' di tempo, visto che Fred Bongusto, Alfredo per gli amici di Campobasso, non stava sicuramente bene, perché praticamente aveva avuto un problema di Alzheimer che lo aveva colpito qualche anno fa. Noi stessi lo avevamo invitato nel 2015 a Telemolise nel cuore per premiarlo, ma ci risposero i parenti più stretti che non era assolutamente presente a se stesso e che quindi non avrebbe potuto partecipare alla nostra serata. Fred Bongusto è deceduto nella serata di ieri, ha avuto una vita sicuramente importante, è stato uno degli artefici della musica leggera italiana di quel settore che veniva definito da Knight, insieme a Bruno Martino, a Peppino Di Capri, a Don Marino Barreto, ha lanciato praticamente la musica da Knight, quindi quella musica che una volta serviva ai ragazzi da allora per cercare di trovare la compagna ideale, magari in un locale, quelle musiche che facevano sognare e che hanno probabilmente avuto grandi responsabilità anche sulla crescita di molti ragazzi dell'epoca che evidentemente si rifugiavano nei Knight proprio per cercare di trovare un passatempo che potesse in qualche maniera essere nello stesso tempo ingenuo e accattivante. Fred Bongusto è stato un pilastro della musica leggera italiana ma è stato soprattutto un difensore accesissimo della Campobassanità e della Molisanità. Lui si è sempre definito un Campobassano verace, ha parlato del Molise sempre e comunque in tutte le trasmissioni, in tutte le occasioni pubbliche che lo hanno ospitato, quindi è stato davvero un Campobassano doc, purtroppo non ha avuto, come diceva lui stesso, grandi riconoscimenti qui dalla nostra terra, così come capita sempre perché noi molisani, noi campobassani abbiamo questa caratteristica che ci piace sempre molto di più, l'erba del vicino, se uno è di Campobasso e molisano non vale per i molisani e per i campobassani quanto valgono persone magari di minore spessore sociale che arrivano chissà da dove. Insomma Fred Bongusto è stato davvero un personaggio unico ricordato negli ultimi anni da Antonello Carozza che negli ultimi anni ha organizzato buon compleanno Fredda al Teatro Savoia, che è stato l'unico che aveva anche praticamente costruito un percorso a Campobasso, ce lo raccontò l'anno scorso durante una puntata di Domenica Sport, che poi non sappiamo che seguito abbia avuto perché aveva bisogno evidentemente anche di finanziamenti adeguati. Insomma Fred Bongusto è stato un Campobassano davvero doc al quale vogliamo certamente dedicare questa puntata del nostro telegiornale sportivo. Ricorderemo che è stato anche nostro buon amico, lo conoscemmo una volta in un night di Perugia insieme ad alcuni amici ci presentammo veramente universitari senza molti soldi in tasca e lui si esibiva in un night di Perugia e ci fece entrare, ci fece sedere in prima fila. Da allora in poi è rimasto sempre un rapporto sereno, un rapporto sincero, tant'è vero che fin quando è venuto a Campobasso nei fini di settimana e frequentava il circolo tennis, ci passava sempre a trovare anche a Tene Molise. Quindi sicuramente Fred Bongusto resterà nei nostri cuori per quello che è stato e soprattutto per la stima reciproca che ha contraddistinto la nostra amicizia. Quindi un pensiero va sicuramente ai parenti che ha ancora qui a Campobasso, alla nipote Alessandra Lorito, al cognato Gino e noi abbiamo voluto ricordarlo con queste fotografie che state vedendo che appartengono proprio al primo periodo del Fred Bongusto, musicista Campobassano, veramente ai primi vagiti suoi nel mondo della musica leggera italiana. Addio Fred, resterai per sempre nei nostri cuori. Una rotonda sul mare Il nostro disco che suona Vedo gli amici ballare Benvenuti al nostro TG Sport, cari amici di Telemolise. In apertura parliamo di calcio di Serie D, Campobasso domenica ospite del Cattolica Cudini, valuta le soluzioni in attacco, tutti a disposizione in casa Vasto Girardi per la gara a Monteggiusto contro il Montegiorgio. Ad Agnone arriva la Jesina, cambi obbligati di formazione a costa squalificato per due giornate. Tornerà di Arra dalla squalifica. Cudini potrebbe andare verso una riconferma quasi totale del Campobasso ultimo per molti dei giocatori coinvolti contro il Giulianova. Dubbi sulla dislocazione tattica. Il rientro di Musetti permette al tecnico di tornare volendo le due punte con un trequartista, mentre domenica si è giocato con il cosiddetto albero di Natale, cioè con un unico riferimento offensivo. Ad ogni modo Musetti si candida a tornare nell'undici titolare in quel di Cattolica, al fianco sicuramente di Cogliati, colui che senza bacchetta magica ma con tre gol in due partite ha dato una sterzata alla stagione rosso-blu. Danilo Alessandro rimane in dubbio. Se due domeniche fa il problema per lui era di natura fisica, domenica scorsa la sua esclusione è stata frutto di una scelta meramente tecnica. Le carenze iniziali in fatto di punti obbligano il campo basso a proseguire la striscia utile, possibilmente con altre vittorie. I tre punti sono sempre ardui da ottenere, ma la prospettiva del calendario dei rosso-blu potrebbe indurre ad un ottimismo molto cauto. La cautela, dettata dal fatto che i ragazzi di Cudini hanno ceduto qualche punto ad avversari di caratura non elevata finora. Meno tre giornate anche ad un interessante confronto. Quello con l'area canatese a Selvapiana fissato proprio per il primo giorno di dicembre, quello della riapertura delle liste. Una gara sulla quale saranno sicuramente puntate le attenzioni di molti. Il campo basso vuole arrivare a quella data provando a fare l'unplane di punti per poi rivolgere la mente ad un mercato che dovrebbe cambiare ulteriormente il volto della squadra dopo il ritocco appena portato con Cogliati e Sbardella. Anche la società del campo basso ha voluto esprimere il proprio cordoglio per la scomparsa di Fred Bongusto. Lo ha fatto pubblicando una foto del cantante che abbraccia una chitarra con la sua città alle spalle e con alcuni versi più calcistici, diciamo così, della famosissima canzone Molise. Tutti a disposizione in casa Vasto Girardi. Farina è solito nascondere la formazione ai suoi durante la settimana senza che trapeli quasi nessun indizio. Sarà così anche per la gara di Montegiorgio. La squadra marchigiana ha pedine interessanti come Mariani e lo stesso Titone in attacco ma gli altomolisani non sono sicuramente da meno con il vanto di Chiere Mateng che ha segnato otto gol di cui cinque su calcio di rigore. L'attaccante del Vasto Girardi comanda la classifica marcatori del Girone F in coabitazione con Maio del Porto Sant'Elpidio, con Pera della Re Canatese e con Dos Santos della Vastese. Insomma, con Chiere Mateng il gol è quasi garantito. Anche la statistica dei calci di rigore all'attivo per il Vasto Girardi fa certamente riflettere. Petrone è quello più abile nel procurarseli nella stragrande maggioranza dei casi. Chiere Mateng è quello che li calcia con precisione chirurgica. Anche e soprattutto da qui nascono i 16 punti della squadra di Francesco Farina. Ad Agnone cambi obbligati di formazione per il tecnico Pizzi che non potrà disporre di a costa squalificato per due giornate. Tornerà di Arrada la squalifica. In generale si potrà assistere ad un'Olimpia comunque a trazione anteriore. Le alternative ci sono. Fra queste lo stesso Salvatore Elefante ma anche a Madù Cone possono rappresentare ottimi elementi con caratteristiche offensive. Mancherà proprio il riferimento offensivo tipico dell'Olimpia. Granata che vogliono battere la Iesina e scacciare i fantasmi delle ultime due sconfitte consecutive contro Campobasso e Notaresco e aggiustare così la classifica che per ora colloca gli altomolisani nella parte mediana. Soddisfazione espressa dal responsabile della scuola calcio dell'Olimpia nionese professor Fernando Sica per la convocazione per uno stage con la nazionale Under 17 di due giovani promesse Granata. Si tratta del portiere Davide Spadone classe 2000 originario proprio di Agnone e di Andrea Farina punta classe 2000 originario di Rocca Spinalveti in provincia di Chieti e già in passato nelle mire di Carpi e Frosinone. Riconoscimenti di qualità per il rally del Molise nel 2020 sale di categoria con l'attribuzione del coefficiente maggiorato 1.5 anziché 1. Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente dell'Automobile Club Molise Luigi Di Marzo per il riconoscimento tributato dalla federazione sportiva AC Sport al rally del Molise. Ciò consentirà di assumere una maggiore importanza alla chermessa automobilistica e una maggiore visibilità dell'intera regione molise nel panorama sportivo e attrattivo a livello nazionale. Adesso il basket femminile di serie A2. La grafica del basket per la serie A2 femminile la settima giornata che si disputerà il 10 novembre. Ariano Irpino, Cuscagliari, Atena-Roma, Umbertide, BK, Livorno, La Molisana-Basket. Cis Pezzina, Nico-Basket, Civitanova-Marche, Virtuscagliari, Faenza, Viterbo, SG Valdarno, Roma-Basket. Riposa alla Selarjus. La Molisana-Campo-Basso proiettata alla trasferta toscana in casa della neopromossa Livorno. Formazione che sinora ha portato a casa ben due referti. La gara è in programma domani con palla a due alle 21. Adesso il calcio a cinque. Per la serie B invece il girone G, Chaminade-Giovinazzo, Diaz-Fuzza al Torre Maggiore, Fuzza al Canosa-Aquile-Molfetta, Fuzza al Capurso-Real-Dem, Olimpia-Ostuni, Freetime-Aquila. Riposa-Sporting-Venafro. Per il campionato di Serie C regionale, Frenter-Larino-Arcadia-Termoli, Fuzza al Colli-Avolturno-Monaci-Lioni, Juvenes-Chemarin, Montes-Real-Cercemaggiore, Rocca-Ravindola-Frosolone, Sestese-Montagano, Venafro-Sporting-Campo-Basso. Riposa la polisportiva Boiano. Il Cusso Molise di Mister Sanginario è a lavoro per la trasferta di Cassano. Per il torneo di Serie B, riflettori accesi al Selvapiana per Chaminade-Giovinazzo. Indovinate chi è il cronometrista. Ancora il signor Capaldi di Sernia, che impedì praticamente alla Chaminade di conquistare la partecipazione ai play-off lo scorso anno. Settima giornata nel campionato di A2. Domani pomeriggio CLN Cusmo Molise è impegnato a Cassano delle Murge contro uno dei team più attrezzati di tutto il campionato. L'attletico Cassano, infatti, ha ambizioni di alta classifica e fa del palangelillo il fortino dove costruire i successi. Sabato scorso per i pugliesi è arrivata la prima sconfitta stagionale contro il Cataforio, lecito dunque attendersi dai biancazzurri un vero e proprio assalto alla porta di De Lucia. Il Cusmo Molise guarda ciò che di buono è stato fatto fino ad ora. Una classifica magica a 13 punti e prestazioni increscendo. Sabato scorso netto il 5-1 rifilato al Magic Krati, un team sicuramente con un livello medio superiore rispetto ai Cussini. Eppure il successo è andato in favore dei ragazzi di San Gennario, bravi a chiudere ogni spazio e colpire ad ogni occasione utile. Ancora una volta Barichello, autore di una doppietta e attuale capocannoniere non solo del girone C, ma di tutta la Serie A2 con 12 marcature. Nel complesso altre note positive per il tecnico Campobassano, su tutto il giovanissimo Mattia Triglia che si sta comportando egregiamente. Il ragazzo ha talento e gioca con la sapienza di un veterano, per lui si può prospettare un futuro radioso nel futsal. Bene anche il collettivo, ciò c'è ormai una sicurezza, come Ferrante e Di Stefano che stanno dimostrando grande affidabilità. In leggero ritardo di condizione, Jasson è pizzuto, mentre Jonathan De Betio sta migliorando gara dopo gara. Detto questo, domani a Cassano sarà sicuramente difficilissimo portarvi a punti, ma sostanzialmente in questo momento si può giocare con una serenità che può fare la differenza. Senza assili e con la mente sgombra, i risultati sono più semplici. Al cospetto di giocatori come Alemao Glazer, Fred e Cutrignelli, quest'ultimo lo ricordiamo con la maglia del giovinazzo, ai tempi della vittoria della Serie B da parte della Esernia, serve in primis lucidità per portare a casa un risultato positivo ed in quest'ottica il Cusmo Lise ne ha da vendere. Torna a giocare al Palazzo Elvapiano la Chaminade, che domani riceve alle 16 il giovinazzo in quello che è sicuramente il big match della sesta giornata del torneo di Serie B. Nel girone G sarà sfida al vertice, tra i rosso-blu attualmente al primo posto a quota 11 e i pugliesi terzi a quota 9. Classifica cortissima, che deve tener conto nelle prime posizioni del turno di riposo già osservato dal Molfetta e proprio dal giovinazzo. In casa i campobassani non possono assolutamente commettere passi falsi. Se si vuole giocare un torneo di vertice non si può sbagliare al Palazzo Elvapiana. Nonostante il primo posto in classifica, la squadra ancora non gira nei migliori dei modi. Ecco perché domani è attesa la classica prova del 9. Valutare l'effettiva crescita al cospetto di un avversario quotato e con gli stessi obiettivi stagionali. Insomma, servirà una Chaminade diversa, concreta e spietata nelle occasioni propizie. Sabato scorso è arrivato il successo solo per una rete a zero contro il fanalino di coda Real Dem che è ancora a zero punti. La settimana si è svolta nel migliore dei modi con la giusta concentrazione per affrontare il team bianco-verde. Mister Tavone può contare su tutti gli effettivi e giocarsi le chance vittoria nel migliore dei modi. Da valutare solo le condizioni di Paoligno e Oriente che in settimana si sono allenati a singhiozzo. Lo staff conta comunque di averli a disposizione per la sfida di domani. Per la Chaminade quella contro il Giovinazzo sarà la prima di tre previste contro società di alta classifica. Seguire infatti la trasferta a Molfetta ed il match interno contro il Canosa. Il rodaggio è finito e siamo certi che dopo questo trittico di gare in programma si potranno definire le velleità di classifica. Un periodo fondamentale della stagione sicuramente non decisivo perché siamo ancora nel girone d'andata ma è chiaro che serve un cambio di passo in positivo per giocarsi le chance per vincere il campionato. Bodismo domani apriranno le iscrizioni per la 46esima edizione della Sue Giù gara amatoriale organizzata dal gruppo sportivo Virtus in programma domenica 17 novembre da sabato fino a mercoledì 13 novembre il costo di adesione è fissato in 6 euro poi la quota aumenterà i punti di iscrizione sono presenti sul sito della società calcio regionale si apre domani con i classici anticipi la decima d'andata. Si tornerà in campo domani sui rettangoli molisani per la decima giornata del girone di andata che come di consueto verrà aperta dagli anticipi del weekend a partire dalle ore 14 e 30 il termoli 1920 reduci da un'infelice sconfitta contro la polisportiva gamba tesa si troverà ad affrontare un'altra difficile gara tra le mura amiche della capolista Treppini Matese piove sempre sul bagnato è il proverbio che meglio si addice a questo incontro se si vuole analizzarlo in ottica giallorossa difatti la rosa di mister Rufini lo raccoglie tre punti da ben quattro giornate risultato che sicuramente condiziona l'andamento in classifica ma più di tutto grava sul morale della squadra i padroni di casa invece militano soli in prima posizione con punteggio pienissimo e incontro dopo incontro non mancano nel dimostrare le loro ferme intenzioni di titolare questa stagione sportiva inoltre entrambe le compagini questo mercoledì sono state impegnate nei quarti di andata della Coppa Italia di Lettanti dove rispettivamente il Termoli ha pareggiato contro le Acli Campo di Pietra mentre il Treppini ha vinto in casa a discapito del Rocca Sicura risulta chiaro che domani gli Adriatici saranno chiamati ad un impegno massimo per cercare quantomeno di non lasciare nulla al caso dirigerà la gara il signor De Castro di Campobasso match casalingo per il sesto campano che ospiterà l'aurora capriatese dopo l'ultimo incontro da dimenticare i ragazzi di Mister Cecchino scenderanno in campo con la voglia di ritornare a vincere ma questa volta con il sostegno del campo gli avversari invece dal canto loro proveranno a replicare la prestazione messa in atto sette giorni fa a Capriati a Volturno dove grazie a cinque promettenti reti hanno centrato la vittoria contro il Boiano questo incontro tutto circostrito nella regione campana sarà arbitrato da Matarese di Termoli alle ore 15 verrà dato il fischio d'inizio per l'ultima gara di anticipi del campionato di eccellenza che riguarda Baranello Rocca Sicura il team giallo-blu ha un obiettivo importante allungare la serie positiva puntando ai playoff sicuramente il match che li attende non sarà particolarmente arduo e se giocato con la giusta grinta potrebbe creare molte occasioni favorevoli i padroni di casa invece provengono da una schiacciante vittoria contro la Leaf esattamente nove le reti centrate numeri che portano con sé tanta voglia di doppiare l'esito designato arbitro Pasqualino Fattore della sezione di Sernia passiamo ora alle gare di promozione alle 14.30 lo stadio Cannarsa di Termoli si animerà per l'arrivo del Volturnia a calcio gli esterni anticipano gli Adriatici di 3 punti e danno all'attivo una differenza reti di più 10 per questo motivo il tecnico giallo-rosso farà bene a tenere d'occhio l'attacco rivale ad attrezzare una pronta difesa entrambe le formazioni possono condividere l'amaro in bocca lasciato dall'ultimo turno di gioco conclusosi in pareggio e far leva su questa sensazione per aprire il sipario ad un incontro scompiettante che sarà vagliato dal signor Libertone di Campobasso vento favorevole ad Alfedena dove la squadra locale ha disteso le ali spiccando il volo in prima posizione domani alle ore 15 viaggeranno alla volta del Ripa Limosani team con alle spalle una sola sconfitta da quattro giornate i ragazzi di Mister Bentivoglio sfiorano il successo senza mai afferrarlo completamente una condizione di oblio che li vede fossilizzati a metà graduatoria certo accontentarsi di un punto non è mai soddisfacente per il morale ma considerati i numeri degli avversari di domani uscirne in pari sarebbe comunque effetto di un buon gioco la sfida sarà arbitrata da Michele Di Lembo della sezione di Campobasso l'ultima gara riguarda Donchess Agnone caro Villi il momento è propizio in casa Donchess gli agnonesi infatti domenica scorsa hanno ottenuto una bella vittoria esterna contro lo Spinete che oltre al favore del campo giocava anche in vantaggio numerico se sia stato frutto di un colpo di fortuna considerato i deboli precedenti della squadra non possiamo saperlo ciò che è certo è che un'altra vittoria del genere porterebbe la squadra in zona salvezza il caro Villi senz'altro non resterà a guardare ed anche se le ultime due nette sconfitte hanno inficiato sul modesto ma rispettabile andamento della compagine i 15 punti 9 partite lasciano intendere che non c'è spazio per le mezze misure o si porta a casa il bottino pieno o si perde bruscamente e se domani la ruota protenderà verso la prima ipotesi allora il gioco potrebbe farsi duro per il team Granata i 90 minuti sono affidati al signor Di Mario di Campobasso Le Acli Campo di Pietra chiamate alla trasferta di Gambatesa Mare Cordone allenatore delle Acli continua poi il trend che vi vede o vincerò o perdere adesso però si torna in trasferta le ultime due trasferte le dimentichiamo ma no dai non è un discorso di trasferta proprio perché ci mettiamo in mezzo del pareggio l'abbiamo fatto quindi abbiamo fatto a Sesto Campano che era anche un campo difficile un pareggio importante che poi ci ha permesso insomma di passare il turno di Coppa e sicuramente ci sta la trasferta di Gambatesa che non bisogna sottovalutare soprattutto quando ci sono queste squadre che hanno fame di punti e sono convinto che comunque la mia squadra se continua con questa attenzione e con questi stimoli si può giocare tranquillamente la partita li rispettiamo ma cerchiamo anche Gambatesa di fare il risultato pieno fare il risultato pieno perché poi qua arriva il Treppini sì poi arriva il Treppini e quella sarà un'altra partita dove bisogna poi vedere a che livello siamo arrivati insomma speriamo di farla tra virgolette un po' peggio di Venafro e Vairano in modo da raccogliere qualcosa perché secondo me contro Venafro e Vairano abbiamo fatto due grandi partite però abbiamo raccolto pochissimo a livello di risultato nel torneo di promozione domani Ripa Limosani torna tra le mure amiche contro la capolista Ala Fidelis Libero Ricciardi Ripa che torna a casa ad Alfiorilli con un punto che possiamo dire equivale quasi a una vittoria sì diciamo che abbiamo affrontato questa partita con qualche assenza però con il mister l'abbiamo preparata al meglio e chi è scelto in campo ha fatto sì che le assenze non mancassero posso dire che il primo tempo abbiamo giocato un gran primo tempo e il portiere loro secondo me è stato il migliore in campo però quando non concretizzi con queste squadre prima o poi rischi di prendere il gol e così è successo ma noi ci siamo rimboccati le maniche insieme al mister con tante difficoltà siamo ripartiti nel secondo tempo e anche se c'è stata l'espulsione del nostro capitano comunque il pareggio è arrivato e per noi è un gran punto perché venire a fare un punto su questo campo non è facile Nonostante l'inveriorità numerica vi siete compattati e avete lottato su ogni pallone raggiunto meritatamente il pareggio e questa è la strada giusta per fare ancora tanti punti in campionato Sì, noi sappiamo che quando vai a giocare queste partite in determinati campi se non dai il 100% e scendi in campo con questa voglia risultati a casa non ne porti e come già ho detto un punto qua è oro perché credo che poche squadre qui verranno a fare risultato Prossima partita si torna a giocare al Vita Antonio o c'è la La Fidelis partita dura? Sì, da quello che ci hanno detto è una squadra attrezzata però noi sappiamo che in casa ci dobbiamo far valere i punti in casa sono importantissimi noi faremo il possibile per portare di nuovo i tre punti dalla nostra parte dopo due trasferte fuori casa e due trasferte molto difficili Lo Spinete, domenica ospite del San Pietro in Valle Luca Di Bartolomeo, capitano dello Spinete ritmi elevatissimi all'inizio partita uno Spinete è entrato in campo tecnicamente e mentalmente che cosa è accaduto dopo? Chiaramente la partita è stata condizionata dal vento ovviamente il primo tempo eravamo a favore di vento noi e quindi siamo riusciti a sviluppare una manovra di gioco più fluida e loro sono andati in difficoltà tanto è vero che siamo andati sul riposo 3-1 secondo tempo è stato l'opposto loro favoriti dal vento e sono stati bravi a ribaltare la partita 4-3 c'è da dire che dispiace per il rigore che ha dato l'arbitro perché obiettivamente è inventato e niente, quello ci ha condizionato un po' l'episodio però ci dobbiamo fare un mea culpa perché non siamo stati in grado di gestire il 3-1 e questo è una cosa che dobbiamo vedere in settimana e ci dobbiamo lavorare Aspettano gli ex dello Spinete col San Pietro in Valle? No, attenzione no a noi sinceramente non interessa mai l'avversario lo abbiamo dimostrato in queste prime otto giornate otto nove giornate insomma sì è chiaro fa piacere rivedere ex compagni però al di là del saluto iniziale poi ci sarà la partita normalissima che è quello che è lo spirito del calcio Per gli appuntamenti domani sera alle 17 a Limatola inaugurazione per la decima edizione del Cadou al Castello un viaggio tra i mercatini più belli d'Europa Edimburgo, Bruges, Salisburgo accanto all'artigianato italiano d'eccellenza cuore pulsante sarà la grande baita di Babbo Natale con post office e store Bene, è tutto per questa edizione del nostro TG Sport dedicato a Fred Bongusto a tutti voi un cordiale buon pomeriggio compagno voglio ingļ do